Trading online, come funziona e come non cadere nelle trappole dei truffatori. IAO Trading Online è un'attività che permette di acquistare e vendere titoli, valute, materie prime e altri asset finanziari attraverso internet. Si tratta di un mercato molto volatile e rischioso, ma che può anche essere molto redditizio. Come funziona il trading online? Il trading online si basa sulla compravendita di asset finanziari attraverso una piattaforma di trading. Per iniziare a fare trading online è necessario aprire un conto presso un broker, che è un intermediario che permette di accedere al mercato finanziario. Una volta aperto un conto, è possibile iniziare a fare trading. Per farlo, è necessario selezionare l'asset che si desidera acquistare o vendere e inserire l'ordine di acquisto o vendita. Come non cadere nelle trappole dei truffatori? Il trading online è un mercato molto appetibile per i truffatori. Questi ultimi utilizzano una serie di tecniche per attirare gli investitori e indurli a investire in attività finanziarie fraudolente. Ecco alcuni consigli per evitare di cadere nelle trappole dei truffatori. Fai le tue ricerche prima di investire. Non investire in attività finanziarie di cui non conosci le basi. Difida delle promesse di guadagni facili. Se un broker ti promette guadagni facili, è probabile che si tratti di una truffa. Non investire soldi che non puoi permetterti di perdere. AIO Trading Online è un'attività rischiosa e potresti perdere tutti i soldi che investi. Alcune delle truffe più comuni nel trading online, le truffe di investimento piramidale. In questo tipo di truffa, gli investitori vengono pagati con i soldi di nuovi investitori. Il sistema è destinato a crollare quando non ci saranno più nuovi investitori. Le truffe di investimento di alto rendimento. In questo tipo di truffa, gli investitori vengono promessi guadagni molto alti in tempi molto brevi. Questi guadagni sono spesso irrealistici e impossibili da raggiungere. Le truffe di investimento in criptovalute. Le criptovalute sono un mercato molto volatile e rischioso. I truffatori spesso approfittano dell'inesperienza degli investitori per vendere loro criptovalute fraudolente. Conclusione. AIO Trading Online può essere un'attività molto redditizia, ma è importante essere consapevoli dei rischi. Facendo le tue ricerche e diffidando delle promesse di guadagni facili, puoi ridurre il rischio di cadere nelle trappole dei truffatori.